Allora, partiamo dalle cose importanti. Ieri ti hanno detto che l'Indy è morto. Ma non me l'hanno detto ieri. Però è morto. L'Indy è morto, lo dicono nelle major discografiche, in via di chiusura. E in via di chiusura perché è stato sostituito? Non lo so, non lo so, è così. O è come i valori di una volta? Partiamo già così proprio. Sì, 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 media stress. Dicono che l'Indy sia morto, però il problema è che lo dicono nei salotti delle major. A me questa cosa mi fa molto pensare. Tu, 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 Prucic. Prucic, camera partita. Ciao. Ciao caro amico. Caro amico. In realtà tu sei già venuto alla merenda una volta. È la mia seconda volta. È la seconda merenda. Non mi fregate di nuovo. Non ti fregiamo di nuovo. L'altra volta avevi anche cantato, avevi anche suonato a un certo punto. È stato molto bello. Allora, partiamo dalle cose importanti. Ieri, si può dire? Ti hanno detto che l'Indy è morto. Ma non me l'hanno detto ieri. Però è morto. L'Indy è morto, lo dicono nelle major discografiche, in via di chiusura. È in via di chiusura perché è stato sostituito? Non lo so, non lo so. È così. O è come i valori di una volta? Partiamo già così proprio. Sì, sì, sì. Medias res. Dicono che l'Indy sia morto, però il problema è che lo dicono nei salotti delle major. A me questa cosa mi fa molto pensare, mi fa molto riflettere. Lo dice chi non ha idea di cosa sia in realtà, o comunque chi non ci appartiene. Di chi ci ha surfato, di chi ci ha fatti i soldi, così. Adesso l'Indy è l'Indy. L'Indy vuol dire la cosa, la musica indipendente. Cioè, io non sono un cantautore indie. Sono un cantautore. Sei un cantautore. Però questo forse ti fa buon gioco anche. Nel momento in cui smettiamo di usare quell'etichetta che ha avuto un certo momento, un certo arco, basta, sei un cantautore. Non c'è bisogno più di identificarti o identificare un certo tipo di musica come Indy, come se fosse un genere, ma semplicemente la caratteristica che è indipendente. Sì, però il cantautore indipendente c'è sempre stato. Cioè, la figura del cantautore indipendente. Mi sembra, con i motorini che passano, mi sembra di stare a San Lucido nel mio paesino in Calabria. Noi l'abbiamo fatto apposta per farli sentire a casa. Passano i motorini e mi fanno morire. Comunque, l'essere indipendente è una roba che c'è sempre stata, ma c'è dagli anni 70. Cioè, noi siamo i cantautori figli di. Non nel senso più riuscito del termine, perché ci sono delle saclarità musicali che non ci permettiamo neanche di avere, almeno io non mi permetto neanche di mettermici a paragone, diciamo così. Però sì, formalmente, per definizione, siamo i vari figli dei vari Guccini, dei Gregori, di Lucio Dalle. Cioè, facevano questa cosa qua. Poi, piano piano, loro sono cresciuti. Come tutti noi hanno avuto quei contratti che si avvicinavano tra RCA, numero uno e quant'altro. Ma la numero uno è l'etichetta di Lucio Battisti, capito? Era un'etichetta indipendente. Cioè, di cosa stiamo parlando? Quindi, Lindy sarà morto come fenomeno durato dal 2016, dal 2010, non lo so. Però l'indipendente c'è da sempre, quindi perché dire che è morta... Dov'è la telecamera, lì? Sono io la telecamera. Perché dite che è morto? Non dite che è morto Lindy. No, no, in realtà secondo me può fare buon gioco, proprio perché finisce quell'era in cui si veniva caratterizzati in quel modo, quando invece si torna ad essere cantautori e fine. E' meno male pure, però è bene anche capirla questa cosa, questa definizione non la capirei. Però anche questa diatriba, questa dialettica continua tra le major e il... Cioè che non vi capite, che non ci si capisce, che quando vai nei salotti senti cose che ti sembrano distaccate dalla realtà, quando tu invece lavori canti, giri, suoni... Sì, vedi il mondo reale. Vedi il mondo reale, vai lì e c'è questo distacco. E poi ogni venerdì escono dei gruppi che non fanno molto, magari. E però sono con le major. Cioè diciamo la verità, perché non dire la verità? Ma allora la domanda ancora più banale è, però alla fine, chiunque fa Lindy non vorrebbe a un certo punto approdare lì, alla major? Sì, ma infatti non ne parlo male. No, 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 ma ci mancherete. Vorrei ingraziarmeli con questa intervista, ma sono partito col piede sbagliato. No, in realtà, guarda, noi abbiamo avuto l'altro giorno Filippo Sugar, della Sugar Music. Eccala, non glielo dite. Non glielo dite, ciao, un saluto a Filippo. Sarebbe tecnicamente indipendente la Sugar. Tecnicamente indipendente familiare, come dice lui, giustamente. Però c'è un aspetto che in realtà lui ha detto, poi ognuno ovviamente ha le sue visioni, però mi sembrava molto interessante che nel momento in cui tu vuoi arrivare alla major o vuoi fare successo o vuoi fare quella cosa lì, stai perdendo comunque la ruota. Cioè tu vuoi fare la tua musica. Se poi la tua musica ha la possibilità di esprimersi meglio dentro un contesto diverso e non ti deturpa, perché no? Non c'è niente mica di male nella major in sé. Ma io mi sto apprestando, posso risponderti così. A parte che dirti che Sugar può essere un ottimo compromesso, perché è familiare. Le cose familiari ci sguazzo. No, però mi sto approcciando ad un percorso, sto per approcciarmi ad un percorso di stampo indipendente per necessità. Cioè la mia necessità è quella là di uscire con delle canzoni, lo spoilero così, tanto quando uscirà questo posto? Lo faccio uscire domani mattina all'essento. Nel senso, voglio far uscire delle canzoni che siano strategiche al mio percorso. Cioè la discografia è strategica al percorso. Cioè io da settembre, da ottobre in particolare, suonerò in giro per l'Italia. Ok? E voglio intervallare, voglio promuovere delle canzoni che escono. Non voglio promuovere un disco. Un disco poi lo promuoverò quando uscirà il disco suonando in altri locali. Non dico tutto. Però in un'ottica generica del generalismo questa cosa non la puoi fare perché un'etichetta major oggi ti dice usciamo con un brano, vediamo come va, poi magari usciamo con un altro oppure con il disco. Io invece ho voglia di fare quello che voglio. E lo posso fare solo così. Ho le idee chiare. Certo! Mi sembra un bel privilegio. Sarebbe diverso. In sugar sarebbe diverso. Però dico, mi sembra un bel privilegio in parte, no? È un bel privilegio. È anche una necessità. È anche un investimento però, no? È anche un investimento. È anche prendere una squadra, è una scelta. Cioè un investimento uguale a una scelta. E prendere una squadra e decidere questo siamo. Cioè non andare a toccare la banca come banca un'altra società che però avrebbe un potere decisionale, questo è il compromesso che magari inizialmente non mi interessa, però poi oh, il mio disco mi interesserà prendere e vendermelo anche alle major, chi lo sa. Questo fa parte dell'opera musicale, no? Una canzone è un atto artistico. Però quando decidi di farla ascoltare qualcuno è anche un atto commerciale, ma questo lo stiamo dicendo tramette. Ovviamente, ovviamente. Però il fatto di avere dei brani che vuoi far uscire insieme però non alla volta, che però non sono ancora un album, eccetera, ha a che fare anche con la tua banalmente necessità espressiva. Cioè hai scritto due cose, tre cose, una cosa e quindi segui quel flusso lì senza doverti imporre di scrivere per forza anche altro. Allora, non mi piace, da un lato non mi piace l'omologazione. Cioè io credo che l'errore in cui incappiamo adesso è l'omologazione. Cioè proprio l'omologazione è una roba che io non sopporto. E fare come fanno gli altri è una cosa che... Cioè, credo di essere l'unica intervista di essermi seduto su questa sdraio per confessarmi. Infatti fra un po' cominciamo a parlare dei sogni. Esatto. Cioè è un buon simbolo di questa cosa. Omologazione rispetto a cosa, però? Rispetto al mondo anche che viviamo. Dipende anche da che modelli ti prendi, no? Cioè in realtà ci sono persone che... No, io credo che il mio modello, che è il modello cantatorale probabilmente, è giusto se è un modello molto ad hoc, molto personalizzato, molto costruito intorno a me, nel mio caso. Ecco, idealmente, questa è la domanda da Pomeriggio 5. Idealmente quale cantatore vorresti essere? Un cantatore del passato? C'è anche questa voce da Pomeriggio 5 che in realtà non parlano così. Ma no, se Pomeriggio 5 fosse fatto da un genzetto... Ma io non voglio essere come gli altri, capito? Non sono nessun cantatore del passato. No, no, ok, ovviamente adesso parte veramente una domanda scema. Ma io prendo un pezzo di tutti i cantautori, ma dal passato e dal presente... Non tanto come canzoni, ma come modo in cui se la sono vissuta. Cioè, vuoi... Lucio Battisti che poi a un certo punto è diventato il riferimento anche popolarissimo. Piero Ciampi che è morto di fame però era... Allora, come se la sono vissuta, ovviamente il mondo di Lucio Dalla, che ogni tanto girando per Bologna vedi i suoi vecchi amici, c'è il papà del mio bassista, che spererei un giorno di farvi conoscere, era il bassista... E' stato il bassista di Lucio Dalla. E quindi conosco aneddoti, conosciamo un po' di persone che hanno lavorato con... che hanno gravitato in quel mondo lì. E per come se l'è vissuta, è chiaro che è un sogno, una roba così. Poi invece dal punto di vista della scrittura, ogni volta... Devo dire questa roba che è un po'... Non riuscirei ad equivalere, ad eguagliare la scrittura di molti artisti del passato, però ogni volta che ascolto De Gregori, io penso, ok, me ne vado a casa. Perché è talmente strano, ma bello, che... Certo, non riuscirei mai neanche a essere come Rino Gaetano, ok? Ma quando ascolto De Gregori c'è quella cosa che, quindi... Poi non mi ispiro a nessun modello, nel senso che ascolto musica e poi esce fuori quello che scrivi per caso, per fortuna, non lo so. Nell'intervista di prima, nell'intervista che abbiamo fatto poco fa qui avevamo un direttore d'orchestra, Michele Mariotti, che diceva che lui non ha mai provato nessun tipo di invidia, forse anche per carattere suo. E anche poca la sindrome dell'impostore. Ora, tu come stai? Ma, io credo che l'invidia sia un ottimo sentimento, quando è positivo. L'invidia positiva, attenzione. Sì, nel senso, a poche persone ho detto, ti invidio per questa cosa qua. Ma perché mi fa piacere invidio. Intanto sono contento per i traguardi raggiunti da queste persone, da chi ha. E poi perché... Cioè diventa ammirazione. Sì, poi è chiaro, c'è l'invidia per i successi, però quella è l'invidia che ti deve scivolare. Quindi, ok, tutti abbiamo una sorta di invidia per certe cose. Stando così è meglio. Tutti abbiamo un'invidia per certe cose. Però quella negativa ci deve passare. E la sindrome dell'impostore? Ma sono io l'impostore. Sei tu l'impostore? È come sono io l'imbroglione, quel programma che guardavano in... Ma forse l'impostore. Senti, tu nell'ultimo post hai scritto, condividendo lo spettacolo che farai sabato al Botanic, ti esibirà insieme a Orchestra Leggera. Che quando uscirà questo podcast sarà... Io se vuoi te lo faccio uscire domani, audio. Non è un problema. Però hai scritto questo? C'era una tua foto con una camicia rossa. Eh. Io e l'ansia siamo fratelli. Bevi, bevi. L'ansia mi fa pensare troppo, mi fa fare le cose di fretta, mi fa parlare male, mi fa tossire, mi fa avere paura. Lo so da sempre o almeno da quando ho scritto Una casa sulla luna, che in realtà doveva chiamarsi proprio ansia. Ma ci sono anche delle cose positive, che adesso però non mi ricordo. Io non sono mai stato così tanto in ansia come in questo periodo. Ansia di tornare, ansia di fare una cosa bella e grande, ansia di non sbagliare nemmeno una parola in mezzo a tutte le note che può suonare un'orchestra. Non sei mai stato così in ansia. Eh. O era solo perché volevi fare una bella caption, invece stai cadendo io? Ti è piaciuta la caption? Sì, per se no la leggevo. No, no, io sto... Io e l'ansia siamo davvero fratelli. Prima di scrivere questo post intanto ho pensato, ma l'ansia è maschio o è femmina? Infatti me lo chiedevo perché ho detto... Secondo me è una scelta. Secondo me è una scelta. Fratelli, però ansia non è femminile. Però fratelli vuol dire... No, 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 per me è un'ansia... Alla fine ho tenuto fratelli perché mi suonava meglio. Secondo te l'ansia è maschile? Cioè è come entità astratta? Sicuramente non è il mio lato femminile, quello magari è rappresentato da qualche altro sentimento, quindi l'ansia mi piace vederla a mano nella mano come un fratello, come mio fratello. Che poi in realtà la persona ansiosa in famiglia è mia mamma, che mi ha dato questa cosa. Però sì, anche lì è ansia... L'altra volta vedevo un reel, un TikTok, qualcosa, di un sociologo italiano, di cui non faccio il nome perché non me lo ricordo, che diceva ma l'ansia è una cosa positiva oggi. Poi io me la vivo talmente male che già sono magro e poi quando ho l'ansia... Io posso dire una cosa seria? Io ho una... Chiede prima il permesso. Che però non voglio, che non voglio però... Cioè ho una... E non la voglio approfondire. Cioè io ho una... Adesso questo vediamo. No, 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 non la voglio approfondire. Ho una malattia che è legata all'ansia, ok? Ho una malattia che è legata all'ansia, è una malattia cronica, niente di grave, tutto sotto controllo, così. Però ho una malattia cronica... Quindi è una cosa tipo psicosomatica? Più o meno psicosomatica, che è legata all'ansia. Cioè mi è venuta da ragazzino quando avevo l'ansia, forse di matematica. Cioè i picchi dei sintomi quando c'è il picco d'ansia? Sì, ogni tanto ci sono momenti acuti, altri momenti un po' così, altri momenti da anni che sto bene, però è una malattia che si sviluppa tramite l'ansia. Quindi l'ansia ce l'ho almeno da quando ho 14 anni. Poi me ne sono reso conto, poi fisicamente, psicosomaticamente, così l'ho sempre curata. Però quando me ne sono reso conto, la prima volta che me ne sono davvero reso conto è stato quando ho scritto ad esempio Una casa sulla luna. Cioè quello che ho scritto, quindi la risposta è no, non era solo una bella caption, ma c'è verità. Quando ho scritto Una casa sulla luna io parlavo, volevo affrontare la mia ansia che vivevo in quel periodo là. Era il 2016 e iniziavo a conoscere, 2015-2016, e iniziavo a conoscere tutte le persone del mondo della musica a me a fine, poi diventato a me a fine, ok? Che vivevano a Bologna, quindi i vari gruppi, i vari addetti ai lavori ed eravamo tutti in gruppo in giro per Bologna. Io ero un cantautore alle prime armi, che aveva fatto già uscire qualcosa, che però non aveva alcun riconoscimento. Avevo un riconoscimento minimo in ambiente universitario, in giro così, siamo in tempi anti-tik-tok, tutte queste cose qua, quindi forse manco Instagram, non lo so. No, forse spero di sì, perché sennò so becchio. Però 2015-2016. Tu sei un 88. Eh? Tu che anno sei? E non lo posso dire adesso. Sì, è la mia età. Ah, ah. 88, no? 88. Sì, sì. È uscito Facebook quando eravamo l'ultimo anno delle scuole superiori. Eh, vedi? No, 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 vabbè. No, no, però dico, c'era Instagram, c'erano queste cose qua. E io stavo talmente bene in questo mondo qua, che magari era anche un attimo di esaltazione, no? Per conoscere, perché mi confrontavo per la prima volta con quelli che poi sono diventati miei amici. Lodo, per esempio. Lodo Wenzia, ad esempio, no? E a me questa cosa piaceva tanto e c'era il fascino della novità, il fascino delle nuove amicizie. E stavo in giro per Bologna tutta la notte con loro. Avevamo questo gruppo molto grande, così. E lì mi rendevo conto che non tornavo quasi a casa perché volevo godermi ogni momento. Allora lì, una volta quando ci ho pensato, ho detto, ma che cos'è questo strano sentimento che mi porta in giro, mi porta a essere così entusiasta? Forse è la smania, forse è passata una vespa, bellissima. Forse è l'ansia di volere tutto. La FOMO, la chiamano adesso. Sì, esatto, era una sorta di FOMO. Però poi non era nata per questo, non era nata la canzone. Sono visto poi un po' di... Io la FOMO l'avrei a Milano, per esempio. Quando io vado a Milano, sto tre giorni, tre sere devo fare qualcosa, per esempio, no? Sono felice di vivere a Bologna perché è la città perfetta anche contro l'ansia. E quindi lì ho pensato, io soffro l'ansia di volere tutto e di non accontentarmi mai. Questa è stata la prima frase di una canzone che poi mi ha portato avanti nella scrittura per sei mesi in ogni accezione di quella che era la mia ansia. Cioè la mia prima canzone di autoanalisi è quella che poi si è chiamata Una casa sulla luna e che parlava proprio di ansia. Però sull'ansia che dicevi, avevi visto questo reel in cui dicevano che può essere positiva. Sì. In realtà tu mi stai raccontando tutte storie che hanno un effetto poi, un estuario positivo. Cioè alla fine mi è un estuario poi come punk. Ma sì, ma perché comunque... Cioè alla fine hai fatto tante cose, hai conosciuto, ti sei goduto questi momenti, hai potuto confrontare Bologna, con Milano, hai scelto di stare qui, hai continuato a produrre, hai prodotto una canzone. Esatto, se non fosse stato per quell'ansia lì, probabilmente non sarei adesso qui a... Non saresti alla merenda, che è poi il punto massimo, no, immagino, della carriera di chiunque. Quello, quello. La carriera di chiunque. Sì, sì. Ma infatti quando... 15 giorni fa mi hanno detto ma vorresti rifare la merenda e ho lato. No, vabbè. No, vabbè. È incredibile, ragazzi. Non so se ho il vestito adatto. Lì mi è venuta una paura assurda. C'è un documentario su Netflix in cui hanno fatto vedere come mettendo all'interno di due laghi molto vicini tra loro con la stessa identica biodiversità in un paese del nord che non so quale sia, con gli stessi pesci, le stesse piante, la stessa biodiversità. In uno hanno rilasciato degli ansiolitici, quindi contro l'ansia, nell'altro no. E in quello in cui hanno rilasciato gli ansiolitici i pesci più piccoli morivano subito perché andavano diretti senza preoccuparsi nella bocca del predatore. Quindi alla fine l'ansia ti fa sopravvivere in qualche modo. Magari erano... Sì, l'ansia ti fa sopravvivere. Dici, magari erano solo prudeli quelli che hanno fatto l'esperimento. Non ho capito quello che hai detto. Perché tu dovevi vivere. Era una cosa che dovevo dire io questa. La soluzione dell'ansia che volevo dire io. Dell'ansia ti fa sopravvivere mi è piaciuta. Mi è piaciuta, allora va bene. Sì, l'ansia ti fa sopravvivere. Ascolta, prima di chiamare gli altri con te che volevamo coinvolgere qualcuno, visto che tu sei... Non sei nato a Bologna, però sei diventato... C'è scritto dappertutto cantautore bolognese d'adozione. Nel senso che sei... E qua continuo a gocciolare tutto. Che sei ormai considerato, no? Insomma, tra i cantautori che si identificano in qualche modo con Bologna. Noi abbiamo fatto un gioco qua con alcune persone che venivano a raccontare la loro storia con la città di Bologna. Gioco impossibile sulla storia della musica Bologna. Te lo faccio anche a te. Vai. Sono un po' di domande. Praticamente di cui è impossibile sapere la risposta. Io sono molto ignorante. No, 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 ma questo è proprio impossibile sapere la risposta. Quindi noi ci proviamo. Ti do delle opzioni. Anche dal pubblico, se qualcuno vuole provare, proviamo. Musica Bologna. Gioco. Impossibile. Nilla Pizzi. Eh. È bolognese. È stata operaia in quale grande azienda bolognese? Ducati. Maserati. Lamborghini. Lamborghini. No. Ducati. Però, piano piano, adesso la prima. Luca Carboni. Eh. A Bologna, in giro, in cerca di Lucio Dalla per fargli avere i suoi pezzi, non trova Lucio Dalla, ma in K in Curreri. Eh. Lo stava cercando in una trattoria e l'ha trovato, ha trovato Curreri, non Lucio Dalla. In quale trattoria? Allora, le opzioni. Perché se no ti dico da Vito e poi... È giusto. È Vito. È facile, è facile. È facile. Sarà facile. Sì, ho sentito Luca Carboni oggi pomeriggio. Ecco. Se ti dovessero fare alla merenda quella domanda. La fanno a tutti, ti prego, non sbagliare almeno tu. San Petronio, la basilica della città. All'interno è custodito un organo originale del risalente al 1175, 1475, 1775. 1100, forse 1400, perché nel 1100 non esistevano ancora gli organi, credo. Io ve lo prendo per buono quello che tu hai appena detto, anche perché non ho sottolineato quella giusta, quindi non lo so. Nel 1700 siamo arrivati al clavicembro, è le prime forme di pianoforte che è stato in modo. Vedi che poi uno dice, no? E invece è un ragazzo. Io ho fatto il Dams di Bologna, che è una delle formazioni migliori che si possono avere. Che salutiamo, il Dams di Bologna, che tra l'altro è tipo qui dietro. Anche. Anche. Via Caprerie, Bologna, sul pavimento ci sono delle stelle in perfetto stile Hollywood, con alcuni nomi sopra dei giganti del jazz. Tra cui? Dimmene almeno tre. Allora, Lucio Dalla. Yes. Miles Davis. Yes. È l'ultima. Io ero presente quando ha messo la prima metà. È il mio idolo, quindi voglio salutarlo. Voglio salutarlo? Renzo Arbore. Renzo Arbore, grandissimo. Bello, bello, bello. Dimmene un altro. Eh no. No, sono preparati solo questi tre. Allora, questa è davvero... L'ultima. L'ultima. No, la penultima. Questa è impossibile. Il 7 novembre del 1822. 7 novembre del 1822. Ok. Gioacchino Rossini acquistò dal dottor Carlo Zanardi un palazzo in strada maggiore 243, oggi 26. Ok. Ovviamente. A fianco del palazzo di un marchese, che questo non era rilevante. Quanto Rossini pagò quel palazzo in scudi romani? Quelle opzioni o lo sai già? Perché magari lo sai già. Non lo so, ma probabilmente posso dirti chi ha dormito in quel palazzo. E cosa è oggi quel palazzo. Vai. Si chiama Ospita delle robe musicali e ci ha dormito Stendhal. Attenzione. Sì. Bravo Cimini. Facciamo un applauso a Cimini, per favore. Perché qua sta dominando... A questo punto non ti dico neanche le opzioni perché è più bella la tua risposta. Perché non interessano a nessuno, tra l'altro. Tra l'altro. Però erano scudi romani, sai, tante volte uno dice io ho delle monete. In questa piazza, Piazza Rossini, cosa c'era prima di una piazza? Cosa c'era prima di una piazza? Un mercato, un cimitero o il più grande mulino da seta all'aperto della città? Uno vorrebbe dire il più grande mulino da seta della città perché è la domanda più... Invece c'era un cimitero. C'era un cimitero. Io sono estasiato da questa cosa, le hai prese tutte. Quindi grande applauso. Farei salire su questo palco altissimo che abbiamo un altro ospite che se ha finito la... Posso presentarlo io? Ci mancherebbe altro. Prima ho detto una cosa, ho detto vorrei tanto farvi conoscere il bassista che suona con me, figlio del bassista di Lucio Dalla e Donanni. Quindi signori, figlio d'arte e Donanni. Era una gag che avrebbe portato poi... Hai visto? C'è tutto studiato, c'è una drammaturgia ben precisa. È una cosa televisiva che... Tra l'altro dobbiamo chiudere? C'è il foglio che mi guarda male, esatto. Ah, se funziona quello. Prova a parlare, vediamo se vibra. No, ho fatto un corso per non far vibrare i microfoni, quindi sì. Sì? Sì, sì. Quindi usi solo le frequenze medie? Medio-alte. Medio-alte. Medio-alte, sì. Quindi non parli così. Sì, no, tendo a non stare attaccato anche poi in concerto con lui, tendenzialmente cerco di tenere il microfono in questo modo. È esperienza pluriannale. Pluriannale. Sì. E direi anche storica, familiare, tradizione. Beh, però no, lì non mi ha insegnato niente nessuno. No, no, ho proprio assimilato di me. Assimilato tu. Sì. E tu suoni con lui? Io suono con lui. Come? Perché? Da ormai un po' di anni. Lui intanto sta su Instagram. No, no, mando una posizione a un mio amico che era andato a casa mia invece di venire qui. Tu pensa quanto per te è intimo questo momento? Certo. Tu hai invitato la gente a casa tua, sbagliandoti. No, non ha detto lui che ha sbagliato. Va bene. Com'è suonare con lui? Ma noi suoniamo insieme dal 2017. Abbiamo iniziato a suonare insieme nel 2017. Posso darti un po' di taglio? Tra l'altro io sono, nel senso, lui ti sta dando supporto psicologico, io do supporto psicologico a lui che ti dà supporto psicologico. Quindi posso raccontarti i miei sogni? No. Sì? Ah, no. Assolutamente sì. No, però stavi rispondendo e ti ho interrotto. Sì, scusa. Stai dando una risposta importante. Suonato insieme dal 2017. Con me è molto facile divagare. Molto facile. Infatti probabilmente in questi anni di tour abbiamo divagato veramente. Che cosa stai continuando a fare? Abbiamo a fare. Abbiamo a fare. A non rispondere. E divagato. Esatto. No, abbiamo iniziato a suonare insieme nel 2017. Sono stati, almeno i primi tre anni fino al Covid, anni molto intensi. Molto intensi. E ti posso dire, abbiamo suonato ovunque, abbiamo fatto centinaia di date insieme, quindi siamo diventati fratelli acquisiti. Prima non ci conoscevamo, però ci siamo conosciuti da bolognese a bolognese acquisito, ma tanto chiunque stia a Bologna è bolognese. Diventa bolognese. Sì, quindi ci troviamo molto bene. In tutto questo, appunto, in occasione di questo concerto, io non sarò solamente bassista suo, ma sarò anche, in questo caso, sono anche in rappresentanza dell'orchestra leggera. Perché dell'orchestra leggera. È una cosa incredibile questa qua. Si può dire, tu suonerai il 13, hai già suonato, hai già fatto una data con l'orchestra leggera, con 14 elementi di orchestra che ti accompagnano. Il che, da quello che ho letto un po' spolverando, spulciando, è una bellissima cosa. Perché comunque essere accompagnato dall'orchestra, ma ti mette anche un po' di ansia. Tanta ansia. Perché non ci sono... Allora, a parte mi mette del fascino, che è inutile queste informazioni ai fini del podcast, che uscirà quando è già finito il concerto. Io sarò in vacanza. Noi la facciamo uscire domani, audio, con un post. Basta, l'ho deciso io. Però, quando... Poi la faccio uscire pure i video. Però, quindi, quelli che guardano video, che sono tutti poi quelli che la guardano. Volevo dire, tutte e 37 le persone che guarderanno questo video. Su YouTube, no? Eh. No, che è stato un concerto bellissimo, quello di sabato. Ah, quello di sabato, fra due giorni. No, come è suonare con un'orchestra? C'ha una matrice di fascino, una parte di fascino. Che forse è proprio la matrice, effettivamente, incredibile. Io li ho conosciuti... Cioè, a parte Edo, ho conosciuto la possibilità anche di suonare in questa formazione, in questa forma, in questo modo. L'anno scorso, in una situazione in cui ero andato un po' a cazzo di cane, diciamo, no? Per un motivo un po' quasi da prova, semi-pubblica. Ho detto, vabbè, dai, devo cantare tre canzoni, vado... Io sono rimasto rapito. Sono rimasto rapito da questi ragazzi e dagli strumenti, chiaramente, dalla forma sonora che si stava creando, che io non avevo mai toccato. Cioè, per me, vedere un flauto traverso, sentire un flauto traverso che suona sabato sera, in quel momento mi sono emozionato. Cioè, per me è stato... Dopodiché ho iniziato ad inseguire questa realtà che stava nascendo, non aveva neanche un nome, vero? No. Ah no, il nome l'abbiamo trovato un mese fa. L'hanno trovato dopo, ce l'hanno trovato dopo. Questa realtà per me è stata una cosa bellissima. L'avevo inseguita e ho proposto, tra un gin tonic e una birretta, la possibilità di fare l'estate successiva, quindi il 13 luglio, un concerto in una formazione particolare e abbiamo creato questo entusiasmo che effettivamente c'era. Quindi ha una matrice di fascino che abbiamo portato avanti. Siamo diventati 14, ci sono i fiati, ci sono gli archi, ma c'è una parte leggera, tecnicamente, quindi non solo il nome dell'orchestra, ci sono due batterie, ci sono un pianoforte e un tastierista, un pianista classico che è anche il maestro, che ha arrangiato tutto. Ci sono due batterie, una acustica e un'elettronica, ci sono due chitarre. Insomma abbiamo fatto una cosa completa ed è bellissima. Chiaramente suonare senza basi, suonare senza tutta quella finzione che rappresenta la musica di oggi. Suonare in un certo modo, così analogico in ogni caso, così puro, diciamo così, ti mette pure tanta ansia perché se sbagli una parola è incredibile. Infatti lì non suonerò. Però serve anche un po' per portarsi la vicenda più in alto, per motivarsi, dal punto di vista dell'orchestra. Lui regge, tiene? Guarda, ti dico, l'obiettivo o lo scopo dell'orchestra leggera è quello di sdrammatizzare un po' l'accademicità orchestrale. Quindi in realtà in questo caso, in questo contesto, si è trovato un compromesso tra il pop e l'orchestrale. Quindi non è un concerto orchestrale puro, non è un concerto pop puro. È una commissione tra queste due cose. Cioè l'orchestra leggera nasce con quell'obiettivo. Ed è una cosa che nel momento in cui assisti a questo tipo di spettacolo, a questo tipo di fusione, non puoi che rimanerne colpito. Perché non rientra nel contesto tendenzialmente esclusivo, senza polemica. Poi in figura ci troviamo davanti al conservatorio. Però tendenzialmente esclusivo della musica classica, della musica accademica di un certo livello. O comunque di tutti i contesti in cui c'è un'orchestra. Esatto. Ma è applicata alla musica pop tramite degli arrangiamenti ad hoc delle sue canzoni. E questo poi tra l'altro è un po' il collegamento che avevo fatto pensando di parlare prima proprio con il direttore dell'orchestra. E penso, immagino, che chi viene a ascoltare lui, a cui non daremo un nome perché è seduto più in basso di noi, quindi adesso stiamo parlando io e te, viene a ascoltare Cimini e vede un'orchestra, sente l'orchestra, sente che potenza ha il suono di corpo e di interpretazione. Un'orchestra, anche se ridotta, anche se leggera, anche se vogliamo chiamarla come vogliamo, probabilmente poi pensa, aspetta, allora forse davvero dietro, no? Se vado a teatro, se vado a sentirla da qualche altra parte, quell'emozione magari la riesco a riprendere. Quindi è anche un... Adesso... Ma rispondi a questa domanda difficile, vai. Cioè è un concerto, è un'esperienza che valorizza il progetto, ma diciamo che lo porta su un livello alternativo, non necessariamente superiore. No, certo. E per me, per noi di leggera, per noi insieme a lui, visto che comunque è un progetto che in parte è nato anche insieme a lui, l'obiettivo è quello di proporre un'alternativa piuttosto che qualcosa di migliore. No, al migliore magari no, ovviamente, perché l'abbiamo detto, non c'è mai una gerarchia, poi ognuno può piacere effettivamente, però la potenza probabilmente, quanto ti travolge, anche solo per le vibrazioni, proprio per il corpo, la fisicità del suono, in un'orchestra difficilmente, non rimane impressa quella cosa lì. Poi non vuol dire che io non voglio riascoltare con la base elettronica, anzi ci mancherebbe altro. Anche perché dopo questo concerto, con l'orchestra leggera così, inizieremo a fare, come ti dicevo prima, facciamo un tour, a partire ad ottobre, dove siamo addirittura in 4-5 persone, cioè siamo proprio la forma nucleare dove abbiamo l'intenzione di non suonare comunque con le basi, comunque con quello che è il mondo di... cui ci siamo abituati, dai, negli ultimi tempi, ma vogliamo proprio... cioè abbiamo l'idea di suonare nei posti piccolissimi, in giro per l'Italia, ma tipo a Bologna, che so, il cortile caffè, ok? Fare posti piccolissimi, in cui si suda, in cui c'è proprio una roba totalmente all'opposto dell'orchestra, però partire con l'orchestra per... Ma ti è venuto voglia di fare un album con l'orchestra, di registrarlo con l'orchestra? Mi è venuta voglia di fare un album di non essere, tra virgolette, paradossalmente limitato però dall'orchestra. Mi è venuto però voglia di fare un album arrangiato magari da un maestro all'orchestra, perché lì c'è proprio la libertà di utilizzare quello che si vuole e non gli strumenti d'orchestra che quindi c'è di mettere per forse violini, dico una cazzata, però avere quella forma di arrangiamento che può essere così mi piacerebbe, ci ho pensato, ci ho pensato. Mi piace che tu abbia capito questa cosa. Mi piace pensare che tu abbia capito che io ho capito qualcosa, ma io faccio delle domande in realtà completamente a caso senza aver... Ti balenava così? l'hai chiesto pure prima. A chiunque anche. No, in realtà adesso a parte questa... Dal punto di vista invece della selezione di chi suona e come... Arrivare a 14 penso che sia un numero arbitrario, no? Perché proprio 14? Perché poi diventano 4? Cioè come scegliete? In realtà questa domanda nello specifico dovresti farla a Gianmarco Verdone che è l'arrangiatore che ha scritto gli arrangiamenti per orchestra per il suo concerto. Partendo dal presupposto che un'orchestra minima pop è composta da un quartetto d'archi e due fiati. Quindi si parte da un'orchestra che è composta almeno da 6 elementi. Aggiungici gli altri elementi pop quindi un'integrazione alla band. Noi solitamente in band siamo in 4 più lui e alla fine si è arrivato a 14. Ok. Quindi anche... Come il trattore di una nostra canzone. A14. A14. E anche il nome di un'autostrada. Sì, sì, sì. Questa coincidenza è incredibile. Un'autostrada che ci tengo a precisare abbiamo percorso. L'A14? Sì, sì, l'abbiamo percorso. E chi no? Esatto. Per un attimo avevo pensato che non l'avremmo mai percorsa e invece... Almeno una volta nella vita per andare ovunque perché in qualunque posto che non sia Milano o Firenze devi prendere la 14. Sì, sì. Allora io però lo sapete che ho questa tourette dei giochi quindi adesso voglio fare un altro gioco. Sempre su Bologna perché è Bologna, è il cantautorato bolognese, dovete asciugarci ogni volta con sta cosa... Bellissimo, ci mancherà... No, scherzo, ovviamente grande fan. Un minimo di bologentrismo. Ma stai in Piazza Rossini a fare la merenda, quindi... Quanto conosci Bologna? Nome del gioco? Stavo per rispondere. Molto. È di Bologna. Grazie mille per questo gioco e arrivederci. Grazie, quanto conosci Bologna? Abbastanza, sì. Uno. La grassa, la rossa là? La grassa, la rossa là? Dotta. Bravo. Non è che devi fare che guardi lui perché non sai... Allora, prima rispondi lui, se no tu lo aiuti che tu hai già effettivamente dominato il gioco di prima. che fosse riferito a lui. Che anno nasce l'Università di Bologna? Volete anche le opzioni? Ve le do. Nel 1200 è qualcosa. No, te la dico io. È 1088. Ah, è 1088. Quella è la Salerno. Quella è la Salerno. Ho il cuore al sud. Sono sempre lì tra Salerno e Bologna. Sì, Quanti stemmi sono conservati nell'archiginnasio? All'archiginnasio? 3.000? 1.500? 2.200? 6.000? Stemmi? 1.000? No, scusate. Allora, io ti posso dire che la cifra precisa non la so. Ti potrei dire 2.200? E invece mi dici? No, no, io vado su 2.200. E invece mi dici? E invece ti dico? Sì. mi stai mettendo. Sono 3.000? 6.000? 6.000? Bravo! Sono bellissimo, sono 6.000. Senza aiuti, tra l'altro. Tra l'altro ho questa capacità di ragionamento anche provando le altre. Quante volte viene menzionata da Dante e la Garisenda. Siamo finiti in una foto comunque bellissima di turisti giapponesi che hanno lo stereotipo di fare le foto in giro alle persone che parlano. E siamo oggetto di uno stereotipo. Poco sviluppato economicamente. Forse è la prima volta della mia vita che mi trovo. C'è un mio amico che ha la sua ragazza americana qua adesso per un mese e lei ogni volta che gira dice ma è troppo carino vedervi perché avete il vostro piccolo camion dei pompieri con le vostre piccole strade i vostri piccoli ospedali sembrate proprio una piccola società che va avanti per conto suo. Quante volte viene menzionata da Dante la Garisenda? Due mai? Uno? Cinque? Secondo me è una. Due. Ah due. Ah è un banalissimo due. Un banalissimo due. Quanti archi ha il portico di San Luca? Questo è lo San Luca. 666. Bravissimi. Quanti sono i segreti di Bologna? 666. Non lo so. Ho visto talmente tanti video su TikTok tra... Sembrano infiniti. Sono sette. In realtà sono sette che si ripetono. Sono sempre i segreti. All'infinito. All'infinito. Completa la frase all'incrocio tra Via Indipendenza e Via Rizzoli sulla volta del Cantone dei Fiori c'è questa scritta in latino Panis Vita Cannabis Protectio Vinum Veritas No quella Scarpe Adidas ma è un'altra Vinum Letizio No non me lo ricordo. E citate almeno due delle sette chiese E citate? E citate almeno due delle sette chiese brutto Cita almeno due delle sette chiese Beh cioè Almeno due Questo è brutto perché anch'io Difficile Difficile Tutti sappiamo Qualcuno lo sa due delle sette chiese Una delle sette chiese? Una delle sette chiese Ciao Cristina Perché hanno tutti dei nomi diversi È la ragazza americana di cui parlavo poc'anzi I was talking about you right now One minute ago Partiamo da un classico Santo Stefano Santo Stefano No Chiesa del Crocifisso Basilica del Sepolcro Basilica di Santi Vitale Agricola Niente Ma il Comune di Bologna vi dà dei fondi per fare questa cosa Ok Ultima domanda Quale di questi personaggi non è stato ospite all'albergo Baglioni Quale Non Io ce l'ho Nicola Ultimo zar di Russia La famiglia reale italiana Primo Carnera Clark Gable Napoleone Terzo Primo Carnera No Primo Carnera c'è stato Famiglia reale No C'è stata Paul McCartney c'è stato più e più volte Ma pure E tipo è sempre lì Logan Paul anche c'è stato Logan Paul Il Mahatma Gandhi Il Mahatma Gandhi Quindi Primo Carnera Napoleone Terzo o l'ultimo zar di Russia Nicola L'ultimo zar di Russia Nicola C'è stato C'è stato E' rimasto uno Napoleone Terzo Non è mai stato E io direi che con questa consapevolezza Esatto Noi invitiamo tutti Ad andare all'hotel Baglioni Ad andare all'hotel Baglioni A sentire Cimini Cantare No Sabato C'è al Botanic Alle ore Ma non lo so Siamo lì dalle otto di sera Dalle otto Perché ci saranno un sacco di sorprese Ah O per chi guarda su Youtube ci sono state un sacco di sorprese Un sacco di sorprese Tipo? C'è stata un'apertura musicale Molto particolare Però non faccio nomi Perché comunque siamo in quel limbo Ok Che non si può dire Anche se c'è già stato Ok Un'apertura musicale Che è già di per sé Una sorpresa E poi Abbiamo fatto questo concerto Che ci sono stati due ospiti Sul palco Che hanno fatto anche Un'apertura musicale Che ha sorprese E che quindi Chi viene al Botanic Sabato veramente Non lo sa Di cui uno Posso dare un indizio Uno è stato Ospite Con me Alla Merenda Podcast La prima volta Che ci sono stato Però erano due Erano due Quindi non diciamo Esatto Esatto Chi vuole si va a cercare Quella puntata Attenzione E scriverà sotto Il post di Youtube Anche tu sei qui per questo Anche tu sei qui per questo Io non vorrei dire Il classico dei commenti Hai volontariamente O volontariamente Ma comunque mi fa molto piacere Sottolineato il fatto Che la Merenda Podcast È un po' il centro del mondo Sì 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 Quindi questo è un po' Quello che tutti Volevamo comunicare Però una volta Posso dire la verità Una volta si faceva merenda Nel senso che si mangiava Hai avuto la birra Hai tagliato Sono le 7 di sera Sono 36 gradi Abbiamo tagliato sul cibo Però non mi ricordi Che si mangiava bene Ai tempi Adesso non si mangia Per mangiare anche qua E dice ho pranzato poco Ho pranzato poco Va bene Sapete cosa vi tocca fare Tu l'hai già fatto Tu non l'hai già fatto Però lo devi fare Se no io non vi faccio andare avanti Non vi faccio andare via Mi salutate il mio gatto a casa Ci guarda da casa Tra l'altro se urlate abbastanza forte Ci sente Perché abitiamo qua vicino Ciao Pruciz Ciao Pruciz Ciao Pruciz Ma possiamo fare un'altra cosa Possiamo salutare anche Gino Paoli Ciao Gino Paoli Che è il gatto che ha appena È mio gatto Adottato E Donanni Sì Gino Paoli l'hai chiamato Bellissimo Il mio piccolo Gino Paoli Oggi ha fatto il secondo vaccino Che carino Sì Sì ho portato a vaccinare Gino Paoli Che colore è? È nero con i calzettini bianchi Ma dopo il vaccino Che colore sarà invece? Ecco Ecco Voglio fare questa cosa un po' Io ho provato a chiederglielo Però Per ora è rimasto quel colore lì Sì per adesso è rimasto lì Va bene Grazie mille a voi E grazie mille a Gino Paoli Grazie Grazie a tutti Ciao Ciao